Buongiorno, mi prendo questo piccolo spazietto per dirvi una cosa molto importante. In descrizione a questo video trovate il link al sito Gastrip Drums perché ci sono tutti i corsi Gastrip Drums in sconto. 20% di sconto più 10% se siete veloci. Cliccate sul link qui sotto e capirete che cosa intendo. Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastrip Drums. Oggi nuova, nuovissima reaction. Quindi nuovo video del format che vi piace tantissimo in cui vado a entrare un po' nei vostri studi, vado a vedere le vostre batterie, vado a giudicare le vostre batterie, sempre ovviamente in modo più che amichevole. E però a me questo format sta piacendo un sacco perché vado proprio a vedere cose nuove e soprattutto vado a scoprire un po' di idee che avete avuto, un po' di cose che avete fatto con le vostre batterie, soprattutto con i vostri studi. Mi è già capitato di tutto, chi attacca cose al soffitto, chi dà colori particolari, mi è già capitato un po' di tutto. Ho visto un po' di tutto e questa cosa mi piace un sacco. Quindi intanto voglio ringraziarvi perché mi avete mandato tantissimi video pian pianino, come vi dico sempre passerete tutti, ma non posso fare video da sei ore e mezza in cui faccio vedere 64 video di batteristi. E quindi pian pianino li sto cercando di spalmare un po' alla volta. Se volete mandarmi il video trovate qui sotto in descrizione tutte le info e tutti i link, uno è il link, tutti i link, uno è il link. Per mandarmi il vostro video c'è un link, cliccate e caricate il video lì. E arriva direttamente nella mia cartella Dropbox e così lo vedo e lo posso utilizzare in uno di questi video. Vi ricordo video verticali, se possibile li fate con il cellulare, la qualità è importante fino a un certo punto, non fatemi vedere dei video con i pixel grossi così, ma video in orizzontale, un po' di ritmo quando parlate così non sediamo il video e ci siamo. Quindi mando la sigla e partiamo subito con la prima batteria, il primo studio, la prima persona che ha registrato il video. Ecco la sigla. Quindi partiamo subitissimo, mi metto le cuffiotte e possiamo partire con Matteo Soresini. Vai Matteo. Ciao Luca, io sono Matteo e questa è la mia batteria. Come puoi vedere la stanza non è molto predisposta per il momento all'utilizzo della batteria. Ho in programma di fare qualche modifica per renderla più simile a uno studio. Ora qualche pannello. Passiamo alla batteria. Allora la batteria è una Sonor S-Class del 97. Non la conosco. Con ton da 10, ton da 12 e timpano da 14, cassa da 22 e col timpano tra l'altro ho questa asta che può tenere anche il raido, un piatto. Carino. Il rullante è un ferro manganese 14x5,5x5 del 78 se non sbaglio. Ok, quindi qualche annetto ce l'ho. I piatti sono il set dei Pystep PST7 versione Light, quindi abbiamo Ahead da 14, Crash da 18, poi ho preso separatamente uno Splash da 10, Crash da 16 e Ride da 20. Ok, un bel po' di piatti devo dire. E le meccaniche ho preso, le meccaniche della Mapex sono il set delle Mapex Mars, quindi Charlie, cassa e le aste per i piatti. Ne ho già parlato poche settimane fa di questo set. Grazie, un saluto, ciao da Matteo. Ciao Matteo, grazie mille. Grazie mille. Allora, ovviamente quando si suona la batteria trovare un posto non è semplice perché anche nel momento in cui hai il posto la batteria ha un suono che rompe le scatole. Quindi ovviamente lì purtroppo hai ancora tanto riverbero in realtà, poi togliere il riverbero sembra un lavoro enorme, non lo è così tanto perché togliere il riverbero interno magari con un po' o di bugnato, cioè quella spugna a punte. Oppure, se vuoi proprio una cosa super economica, io ai tempi avevo messo i contenitori delle uova, se l'avevo già detto in un video di Action, avevo messo i contenitori delle uova e quelli ci fanno di brutto, ci fanno di brutto. Quindi perché spezzano il suono e quindi non fanno tornare indietro il suono e quindi hai molto meno riverbero. Oppure, volendo, se vuoi fare una cosa un po' più carina da vedere, diciamo, i pannelli, tipo quelli che mi sono fatto io, tanto c'è il video di come fare quei pannelli lì, e la risolvi abbastanza in modo semplice e anche abbastanza in modo economico. Andiamo avanti, andiamo avanti con, dov'è? Qui, IF Drummer. Siamo pronti? C'è scritto solo IF Drummer, quindi non sappiamo ancora il nome. Vai! Ciao Luca, ciao a tutti. Ti invio il mio video, come ti avevo già accennato in un commento. Cercherò di essere flash. Allora, batteria, Tama Star Class. Qualità pazzesca del video qua, eh? Mamma mia. Finitura, silver, black cloud e silver lining, se non sbaglio. Allora, cassa 22x20, con pelle personalizzate da mio fratello che fa questo tipo di lavori. Tom, custom ordinato da Tama, grazie ad Acustica Napoli. Ci ha messo qualche mese ad arrivare, però l'attesa è stata, diciamo, ripagata bene. Direi che sì. 10x6. Bellissimo, bellissimo. Scusami, 8x6, altro Tom 10x6, 12x7. Timpani, 14x13, 16x15. Raga, non ho sentito una cosa, devo tornare indietro, scusate. In cosa è fatta? In che legno è questa batteria? Allora, batteria, Tama Star Classic. Finitura, silver, black cloud e silver lining, se non sbaglio. Allora, cassa... Ah, non l'ha detto, non l'ha detto, non l'ha detto, non l'ha detto, scusate. Pensavo di essermelo perso io, invece no. Andiamo avanti. Pelli Evans G2, doppio strato, clear, su tutta la batteria. Solite, tra virgolette, ma funziona sempre bene. Che è uno Starphonic 14x6 in alluminio. Bellissimo. Mi piace montare una Powerstroke 3 sabbiata. Piatti, tutti, quasi tutti, custom dark crash. E vai. Belli quei piatti. 14, ride da 20, crash da 16, K-China da 18. Beh, quei piatti lì, ragazzi, bellissimi, bellissimi. Avedis, splash da 10, serie K. Ok. Charlie, custom dark da 14. Microfoni, ovviamente, SM57 per me è il mio. Rullante. E poi ho degli Avanton su tutti i tom e sul timpano da 14. Molto dritti, devo dire. A differenza del timpano da 16, che ho un Sennheiser MD421 vintage. Piccolo aneddoto, ero in cerca, in maniera disperata, di un MD421, quando vengo a sapere che mio padre, nelle sue cianfrusaglie, chiamiamole così, anche lui musicista, aveva questo MD421 fino anni 60, inizio 70. Ti lascio immaginare la mia felicità. Esatto, è abbastanza una fortuna. Adesso sono neri, una volta invece erano così. Pelle della cassa, un Aquarian Impact 2, con una doppia strato con questa sordina. All'interno poi ho inserito un cuscino, ma... Mi piace molto. Direi che suona di brutto. Bella, molto bella. Tama Dynasync, trazione diretta. Non conosco. A stacciargli una MAPEX della mia Orion, a cui sono molto affezionato. Poi qui c'è un ammucchio di clamp, via dicendo, per minimizzare al massimo i piedi che io odio. Su questa... Un'asta tiene tutto, eh. Su una sola asta. Tom da 8, da 10, un crash e uno splash. Eh, non male. Bravo. Bravo. Questo splash, questo è un regalo, questa specie di clamp, diciamo. Non so come si chiama, è un regalo di un mio amico. Molto gradito, perché come puoi vedere lo splash sta sul Charlie. Si, non hai bisogno di un'asta in più. Isofoni, panoramici, AKG 170. Ok. Sul Charlie come panoramico, altro panoramico, un AKG 420. Ah, ok. Come room uso questo Soundronic, che per me è favoloso. È un STC 20. Se qualcuno ha la possibilità di provarlo, di utilizzarlo, lo faccio, perché è favoloso. L'ho messo in miei spalle, perché in questa sala, in questo caso, mi dà più corpo. Mixer barra scheda audio, uso una fantastica presone, studio live 16R, la versione rack. È favolosa. In ear monitor. Capi reference, ho visto. Mi reprimi due. Che dire. Poi qua, c'ho la mia piccola scrivania, i monitor per fare i mix sono delle BX5, perché anche io, questo sei tu, tanto se ti riconosci. È purtroppo sì. Anche io faccio qualche video delle drum cover, insomma, per chi vuole essere il mio canale e Yves drummer. Ottimo, ottimo. Sala. Si vede la qualità dei video. Tattami sul pavimento, morbido e assorbente, isolante. Ah, ok. Poi c'è una stanza nella stanza, con del cartongesso, lana di roccia all'interno e poi la parete originale, ovviamente, all'esterno. Ok, ok. Pannelli fatti rigorosamente homemade, grazie al tuo video che avevi pubblicato. Perfetto. Su come fare i pannelli. Detto, c'è una sorta di materiale riflettente, ma c'è da dire che la sala ancora va ultimata. Beh, però, lavoro ce n'è stato un bel po'. Qua c'è una doppia porta, ma all'interno qui è imbottito, ma questi ancora vanno ultimati. Penso di averti detto tutto. Microfono della cassa, un sempre Avanton. Non mi conosco quei microfoni. Batteria bellissima. Che bella, ragazzi. Spero che il mio video ti piaccia, insomma. Molto. Fondamentale, il ventilatore con questi 40 gradi. Più importante è la batteria ancora. Un abbraccio a tutti. Ciao e grazie. Grazie mille, grazie mille. Cioè, la batteria è bellissima, devo dire. La batteria è bellissima. La Tamastra Classic non ho capito alla fine in che legno sia, però in generale Tamastra Classic suona sempre da paura. La finitura è molto bella. La pelle della cassa, devo dire, complimenti a tuo fratello, perché è perfetta. C'è questa tigre bellissima. E lo studio anche. Comunque sarà da rifinire ancora tutto quanto, però veramente super attrezzato. Mi sembra molto preciso. Cioè, è fatto tutto a regola d'arte. Quindi bravo. E anche come numero di aste, bravo per essere riuscito a mettere tutta quella roba con così poche aste che vanno a appoggiare per terra. Quindi complimenti perché hai fatto un lavoro bello grosso per riuscire, penso, a settare tutto. Andiamo avanti, andiamo avanti con... Ho sbagliato. Nicola Giraldi. Vai, Nicola. Ciao Luca, ciao a tutti gli amici batteristi. Ciao. Io sono Nicola e oggi vi faccio vedere il mio bunker batteristico. Vedo già qualcosa di interessante. Ho la batteria all'interno di un box insonorizzato che ho avuto la fortuna di trovare di quarta mano. Quindi a un prezzo stracciato. Ok, bene. Giriamo. Allora. Beh, è nuovo però sembra quel box. La batteria è una TAM Master Classic. Ah, ok, è una TAM Master Classic. Con misure 10, 12 e 16 e cassa da 22. Per 16 direi. L'ho sbagliata qualche mese fa dopo 14 anni che avevo una Mapex serie M. La finitura è stupenda. È una delle cose che mi ha attratto di più. E dopo, vabbè, la qualità di queste batterie è veramente fantastica. Stiamo neanche a parlarne. Faccio vedere di qua. Suonano la paura quelle. Come rullante ho un Mapex Cyrus in acciaio che tu Luca hai portato nel canale. Esatto. Quindi sai di cosa stiamo parlando. Potentissimo. E come pedale ho un doppio pedale, un Pearl P122. Ok. A catena singola, che è un pedale che uso da sempre. E che, finché non si distruggerà, avrò piacere di usare quello. Perfetto. Come piatti. Non ho un'unica marca, perché non vado a limitarmi ad avere una marca singola. Ci sta, ci sta. Ma ho un mix di varie marche, in base al suono che mi piace, li scelgo. Ho un Charleston della Sabian XS da 14. Un paio di crash, Ziljian e Sabian 16 e 17. Bello il 17. Un altro crash della K Custom da 16. Eccolo qua. Ride da 20. E un crash, è un China dell'Outfit. Ok, ok. Molto, molto, molto carino. Basta. Dopo qui ho un tavolino dove mettere tutto ciò necessario quando è ora di registrare. Quindi con la scheda audio e altro ancora. Bella questa batteria, molto bella. Bene. Bella idea, Luca. E spero... Grazie. ...ti riesco a portare questo mio video. Ci vediamo. Ciao a tutti. Grazie mille. Grazie mille, Nicola. Batteria, allora, finitura pazzesca. Cioè, vabbè, che la Star Classic suona bene, l'abbiamo già detto. Aspettate, questo ragazzo l'ha detto in che legno è? Tutti gli amici batteri, come vedete, ho avuto la fortuna di trovare di quarta mano. La batteria è una Tama Star Classic in noce betulla. Ah, in noce betulla. In noce betulla non mi è mai capitato di provarla. Avevo provato betulla bubinga, che era molto bella, però in noce betulla non mi è mai capitato. Ok, molto bene. Quindi qui ho ben trovato il legno. Piatti, ovviamente, ci sta andare a spaziare tra più marche. Lì dipende da ogni batterista. Questa cosa è una cosa super soggettiva, come avete visto dall'altra parte. EF Drummer aveva praticamente tutti i piatti K Custom Dark e lui invece aveva un K Custom Dark anche, però spaziava. Quindi in realtà, in realtà ci sta. Andiamo all'ultimo video di Marco Della Torre. Vai, Marco. Ciao Luca, sono Marco Della Torre, o Mike Deltatango, come mi faccio chiamare sul mio canale YouTube. Ok. Ho ricevuto la tua email in cui ci chiedevi di mostrarti quelle che sono le nostre tane, le nostre strumentazioni. E questo quindi è il mio video. Ti faccio vedere un po' dove passo le mie giornate. Siamo tutti pronti. Questo è lo strumento che uso in casa per studiare e per preparare tutti i video che poi posso sul mio canale. Si tratta di una Roland TD27KV che di serie della fabbrica esce con un rullante digitale e tre pad per i Tom. La YET che non è quella digitale, un crash, un ride digitale anch'esso e un altro crash che fa anche da secondo ride. Ok. Alla configurazione originale ho aggiunto un altro pad per utilizzare il secondo timpano e un altro piatto della Lemon per simulare splash o effettini vari. Della Lemon? Se non farei qualcosa di più elettronico. Non l'ho mai sentita? Tutto questo è collegato al mio computer dove ho Cubase e in questo momento ho aperto il Wondershare Filmora che mi serve per fare il montaggio audio video dei miei video. Perfetto. La TD27 si poggia su una pedana che mi sono autocostruito comprando il legno da Leroy Merlin e mettendoci sopra una moquette da pochi euro. Sotto monta una serie di piedini mi sembra che fossero 10 o 12 di quelli per smorzare le vibrazioni sono fatti apposta così anche il nostro. Perché in realtà vi spiego perché qualcuno magari sta pensando sì ma la vibrazione eccetera il rumore è una batteria elettronica quindi che fastidio dà. In realtà il problema a volte della batteria elettronica sono proprio le vibrazioni cioè il suono non è un problema ma le vibrazioni soprattutto per chi è in appartamento anzi solo per chi è in appartamento le vibrazioni fanno sì che anche la batteria elettronica possa dar fastidio ai vicini. Perché tramite i muri vibrazioni di delle aste della cassa eccetera possono dar fastidio e propagarsi e andare dai vicini e non vuol dire che c'è il terremoto però danno fastidio e quindi con questi piedini qua anti... Non mi viene la parola vabbè avete capito e l'ha detto prima ma non mi viene più la parola risolvete tutto. Trovo vicino del piano di sotto non si lamenta più di tanto. Ok perfetto. Per le riprese uso questa che è la Zoom Q2N. Ok audio video quindi? Macchina molto molto performante di buonissima qualità il rapporto qualità prezzo è notevole. E per le riprese dall'alto utilizzo una mia vecchissima videocamera della Samsung che pur avendo i suoi annetti funziona ancora bene svolge alla grande il suo porco lavoro. Questo è tutto grazie ancora per la richiesta continuo a seguirti sul tuo canale mi piace moltissimo tutto quello che fai e ti seguo sempre volentieri. Ciao e buona serata. Grazie mille grazie mille grazie mille Mike. Allora ovviamente qui si è creato uno studietto video audio con il computer tutto a posto direi. Quindi tra l'altro ho già visto anche qualche qualche suo video ne ho postato anche un pezzetto in cui suonava un brano che era all'interno di un mio corso linear box e me l'aveva mandato allora ne avevo postato un pezzo. Devo dire che questa Roland comunque suona sempre molto bene non siamo ai livelli magari come era successo qualche video fa della 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 Roland della VAD 507. Però il livello è molto alto quindi ragazzi con questo anche questo video finisce qui io tutte le volte che mi tolgo le cuffie o caldissimo perché hanno questi padiglioni con il vellutino che mi piace un sacco però diciamo che d'estate adesso che è estate tengono un po' caldo. Dovrei forse cambiare i padiglioni o cambiare i cuffie almeno per l'estate ma mi piacciono molto quindi terrò queste qua e mi terrò un po' di caldo. Con questo ragazzi grazie mille voglio ringraziare che lo faccio sempre quindi lo faccio anche questa volta voglio ringraziare tantissimo IF Drummer, Nicola Girardi, Mike del Tatango ecco come è Marco della Torre e del Tatango sì è giusto Marco della Torre e Matteo Soresini per questi video. Vi ricordo che se volete mandarmi un video qui sotto in descrizione avete tutte quante le informazioni avete il link per caricare il video possibilmente con cellulare con videocamera quello che volete con in un'unione orizzontale però con un po' di piglio mentre suonate quindi un po' di ritmo mentre suonate così da non seguire il video e detto questo ragazzi se vi va iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti cliccate sulla campanellina che è una vita che non lo dico e basta per per il resto direi che siamo a posto andate anche sul mio sito Gastel Drums dove ci sono tutti i miei corsi e noi ci vediamo al prossimo video ciao